buongiorno a tutti e bentrovati con metropolis saluto subito e ringrazio qui con me gianni verga ben trovato bene grazie grazie per aver accettato il nostro invito dal collegio degli ingegneri gli architetti di milano e poi volto che i nostri amici ricordano anche con nella assessorato alla cultura proprio di milano della città di milano saluto collegato con me subito don roberto ponti buongiorno ciao stefania un saluto a tutti sono un po meteoropatica quindi per me è più bello collegarci quando c'è il bel sole sicuramente anche per lui che non c'è la pioggia in testa però diciamo che è un bel contesto non c'è rischio pioggia c'è un bel sole e le le condizioni forse adatte per affrontare insieme il santo del giorno adesso vediamo se ovviamente riusciamo a riconnetterci con don roberto che ci spiegherà di san quintino oggi oggi san quintino che è un martire della gallia perché lui è romano ma parte in francia in gallia e per annunciare il vangelo ovviamente è periodo il terzo secolo di persecuzioni e lui cade proprio vittima delle persecuzioni del console romano che aveva la cura di quel territorio e seguiva le indicazioni di sopprimere i cristiani la cosa interessante che san quintino e la sua venerazione si diffonde quindi non solo la gallia ma anche in italia ad esempio c'è la parrocchia di gossolengo che in provincia di piacenza è che è dedicata a san quintino e quindi so che ci sono anche dei legami proprio tra la francia e l'italia in particolare la parrocchia di gossolengo ma anche altri luoghi che tengono il legame con il luogo del martirio e con la la vita la storia di san quintino ecco poi visto che domani ricordiamo già i nostri amici a casa che il palinsesso sarà ovviamente dedicato alla ricorrenza dei santi e poi due dei morti quindi noi non ci vedremo con il nostro appuntamento consueto di metropoli se vogliamo anticipare anche ricordare che andiamo andiamo abbiamo davanti due giorni di ricorrenze importanti certo il primo di novembre è la festa di tutti i santi una festa che ci riguarda perché l'obiettivo di ogni cristiano di essere santo quindi ricordiamo e veneriamo tutti i santi non solo quelli del calendario ma magari anche i santi della porta accanto come usa chiamarli papa francesco che a volte sono i nostri nonni i nostri genitori le persone che fanno del bene e che sono già nella luce nella gloria di dio magari senza essere sul calendario li festeggiamo tutti insieme ricordando proprio la santità come obiettivo della vita cristiana realizzata cioè quella quella pienezza di vita che significa realizzare il proprio percorso e farlo secondo la fede secondo il vangelo e poi il 2 di novembre si una festa e una ricorrenza ecco lì non è una festa si chiama commemorazione dei fedeli defunti perché tutti abbiamo nelle nostre famiglie il ricordo di chi è già passato all'altra vita ed è bello ricordarli tutti insieme è bello pregare per loro perché c'è questa unità che non li distacca dalla nostra vita ma li fa essere uniti a noi i nostri cari defunti in un modo nuovo in un modo diverso ecco poi visto che oggi sarà anche una dire ci sarà anche una diretta speciale io ricordo che il momento di visita dei defunti al cimitero per me è visto che citiamo sempre la figura anche dei nonni quando andavo con nome era un momento per percorrere anche un po la sua vita lui andava e mi diceva questa era la mia maestra questa so se nelle famiglie sempre si usa fare però diventa un ricordo a 360 gradi assolutamente sì io mi ricordo di essere stato tante volte con i miei genitori in particolare il giorno dei morti come si dice e poi e don ponti anche nei paesi si usa fare questo quando magari si lasciano anche i paesi d'origine ci si ritorna proprio con queste ricorrenze per punto di riferimento il cimitero è un punto di riferimento ovviamente un po doloroso ma poi anche pieno di amore perché il ricordo dei nostri cari non deve essere diluito ma deve essere tenuto forte perché quello che hanno fatto per noi rimane in noi e questa unione va testimoniata anche ai più piccoli quindi andare al cimitero vedere che cosa succede nella vita perché la morte fa parte del nostro percorso di vita e renderli coscienti che c'è c'è stato qualcuno prima di noi che ci ha aiutato a costruire quello che siamo e quello che è il nostro paese e con tutto quello che significa condividere una fede che fa dire che quello che vivi non è solo per l'oggi ma anche per il domani grazie mille don roberto buon proseguimento buon lavoro ovviamente grazie anche a voi e noi speriamo di fare un buon lavoro anche per tutti voi per proprio per andare in questa direzione ovvero ci dirigiamo verso le ricorrenze dei santi e dei morti oggi proprio nella diretta che andremo ad affrontare tra poco vogliamo mostrarvi come all'interno di un luogo importante fondamentale per la città come può essere quello del cimitero monumentale poi ci sia tanto di più dal ricordo alla nostra storia anche un'arte cimiteriale tu te ne sei occupato da assessore alla cultura ma certo è un luogo importante per per la comunità per la città non dimentichiamo che Milano cimitero monumentale Milano è importantissimo come lo sono i cimiteri monumentali di altre grandi città il verano a roma il cimitero di genova di staglieno eccetera cioè sono luoghi dell'identità sono luoghi dove si come diceva giustamente don roberto un attimo fa dove la comunità si riconosce si si riflette ecco si rigioca continuamente e io devo dire che quando ci sono stato e quando ci ci vado a ritrovare parenti amici eccetera provo un senso proprio di dialogo nel momento in cui sono in cimitero perché mi rendo conto lì di poter ancora essere in contatto con loro e questo è sicuramente molto bello e poi dobbiamo ricordare lo facciamo con te Jacopo che ti ringraziamo di essere lì che questi luoghi così nevralgici come il cimitero monumentale di Milano possono essere anche a disposizione di noi cittadini quindi quello che tu oggi ci mostrerai è una visita che i nostri telespettatori possono e se vogliono incoraggiamo anche a fare ciao Jacopo ciao ciao Stefania ciao a tutti sì in realtà vi svelo subito una cosa in realtà la visita che facciamo oggi è una visita inedita diciamo così creata ad hoc per voi i telespettatori di Telenova ma in realtà c'è un c'è un sito che è dedicato al cimitero monumentale online dal 2019 ogni anno mediamente si crea un percorso nuovo al mese per cui sono una dozzina di percorsi nuovi individuati e tracciati da chi si occupa del cimitero monumentale e quindi ci sono circa 60 70 percorsi che uno può decidere di intraprendere camminando per i cardi e decumani di questo luogo meraviglioso che andremo oggi a scoprire un po di più insomma insieme a voi e ai telespettatori alle mie spalle già per cominciare c'è il monumento dedicato ai caduti nei campi di sterminio giusto lunedì c'è stata una commemorazione una ricorrenza particolare quindi ci sono ancora come vedete le corone appena posate da parte di di chi ha voluto appunto ricordare tutti i caduti e i morti nei campi di sterminio nazista nazisti e questo è il monumento dedicato che apre sostanzialmente il viale principale del cimitero monumentale che adesso vi mostriamo girandoci alla nostra sinistra domenico dove sullo sfondo già vedete in lontananza in ampia lontananza quello che è l'ossario da cui partiremo da qui passeremo più avanti e poi alle nostre spalle adesso c'è il famoso famedio scusate il gioco di parole ma dobbiamo fare un passo alla volta quindi il nostro tour inizia altrove e poi passeremo anche da questi due luoghi simbolo del cimitero monumentale detto questo stefania vogliamo cosa vogliamo fare vogliamo sentire la voce di chi dirige questo cimitero direttrice che tu hai intervistato poco fa giovanna colace che è direttrice curatore anche del cimitero monumentale proprio perché insomma ci ha invitato a ricordare sempre di che cosa si tratta e lei l'ha fatto se ascoltiamo le sue parole prima di tutto il monumentale è un cimitero e questo dobbiamo sempre ricordarlo qualsiasi altra sua funzione venga messa in campo non si può negare la sua vocazione proprio di museo a cielo aperto quindi non è che lo decidiamo lui è un museo a cielo aperto ma è anche un luogo è luogo forse privilegiato dove celebrare e non solo ma coltivare la memoria collettiva coltivare è importante perché la coltivazione ci permette poi di raccogliere dei frutti e quindi conoscere quello che siamo stati sia come società perché è un cimitero che racconta molto della società milanese sia io credo che conoscere la memoria permetta a ciascuno di noi di modificarsi di modificarsi ogni giorno conoscendo bene quello che hanno fatto le persone le persone che qua sono sepolte e che esprimono ancora oggi la loro voce naturalmente questo questa modalità diciamo di fruizione dello spazio cimiteriale in modo collettivo deve sempre tenere conto della sua funzione primaria perché ci sono persone che cercano qua il raccoglimento e il silenzio per pregare o per comunque ricordare i propri cari quindi quello che si fa al monumentale deve essere sempre esclusivamente legato al cimitero quindi o a personaggi qui sepolti o a artisti che qui hanno espresso la loro capacità appunto artistica oppure a riflessioni comunque sulla morte questo proprio per rispetto e devo dire che le anime di Milano hanno accolto bene questa modalità di fruizione dello spazio e questa è la direttrice curatore del cimitero monumentale Giovanna Colace ora torniamo da te Jacopo sì perché siamo la prima tappa di questo di questo nostro tour e questa è un un'edicola che è diventata un mausoleo adesso vi spiego meglio perché questa è l'edicola palanti diventata appunto civico mausoleo palanti palanti dal nome di chi ha voluto questa edicola ma anche creata perché era un architetto mario palanti lo vedete anche scritto nella porta d'ingresso di questa tomba di famiglia all'epoca diventata altro come come abbiamo detto in stile liberty è una porta insomma imponente come imponente il monumento stesso che c'è alle nostre spalle sostanzialmente a un certo punto la concessione che era in capo appunto alla famiglia palanti è stata rilasciata diciamo così ed è diventata è tornata ad essere una 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 tomba del comune proprietà comunale il comune ha scelto di tumulare qui non soltanto i familiari palanti che sono rimasti dove erano bensì anche degli illustri milanesi che hanno anche si sono distinti nelle loro branche professionali ma anche ad esempio ve lo faccio vedere se riusciamo giovanni danzi che in tanti conoscerete probabilmente che chi è il colui che ha scritto e cantato per primo o mia bella madunina tanto per dirne uno o se no c'è il papà di albert einstein che riposa qui c'è valter chiarico al secolo perché è valter chiari ci sono tanti tanti come dire defunti famosi che sono qui è diventato quasi una sorta di mini famiglio diciamo così ovviamente prendetela con le con le pinze con le molle questa definizione però effettivamente è diventato un luogo in cui da tomba di famiglia è diventato un civico mausoleo curiosità ve la faccio vedere vi dico qui sotto durante la guerra venivano a ripararsi i milanesi era diventato una sorta di bunker per per affrontare i bombardamenti durante la guerra e curiosamente in maniera un po come dire come se se lo fosse immaginato anche se non è ovviamente vero palanti ha voluto queste urne di bronzo che però in realtà ricordano lo vedete come forma le bombe dalle quali si andavano a riparare milanesi facendo le scale scendendo qua sotto sostanzialmente è una curiosità particolare di questo posto ma io addirittura ricordo poi qui stiamo anche un po sfociando in quello che erano le dicerie però in tempo di covid quando si iniziava anche a dire la guerra si erano era ritornata un po questa idea del cimitero come luogo sicuro come quasi è vero perché il cimitero è il luogo dell'eternità comunque e proprio come tale e il cimitero diventa naturalmente sicuro poi in quel caso come diceva bene prima jacopo la gente periodo di guerra si rifugiava si rifugiava dentro queste queste tombe di fatto questa edicola nel caso dell'edicola palanti e quindi anche nel periodo covid è ragionevole che qualcuno abbia pensato di rifugiarsi lì dedicata proprio un architetto cioè che fai parte dell'ordine e tra l'altro lo collego al fatto prima abbiamo visto il monumento per le stragi naziste e per i campi di concentramento quel monumento è stato progettato dallo studio bpr che vuol dire lo studio anche bel gioioso perché lodovico bel gioioso uno di quelli di quello studio era stato internato in un campo di concentramento ah vedi ancora ancora di più tra l'altro all'interno è tutto buio noi siamo riusciti a fare delle immagini che adesso vogliamo anche far vedere ovviamente si è una delle parti inedite del nostro tour perché ovviamente non è aperto al al pubblico ma lo vedete adesso lo vedrete all'interno è un no questo è l'esterno chiaramente si si e stiamo ripercorrendo c'è un c'è un soffitto una volta che è decorata con il tema del cielo stellato che come vedremo come si ripresenta spessissimo all'interno del del monumentale eccolo qua è un cielo stellato da un po quello del famedio lo lo vedremo lo conoscono in tanti milanesi chiaramente all'interno c'è questo altare con un libro di preghiere appoggiato sopra con una scritta in in rilievo e ai piedi di questa di questo altare c'è la grata che poi conduce diciamo così alla zona delle sepolture vere e proprie questa è una chicca diciamo così fatto rivedere all'interno l'edicola palanti devo andare in pubblicità dopo torniamo da te perché c'è tanta anche arte all'interno di tutto questo e lo vedremo tra poco dopo la pubblicità ancora in diretta con voi dal cimitero monumentale di milano dove jacopo casoni è in diretta per farci vivere questo tour insieme a lui anche in edito adesso dove ti trovi jacopo adesso stiamo stiamo inquadrando la l'edicola frova lo vedete perché c'è anche la scritta l'edicola è questa è molto bella è un'opera di un architetto che per il monumentale rappresenta tantissimo tant'è vero che è uno degli otto tumulati nel famiglio ed è luca beltrami siamo davanti a questa edicola che è una peraltro di quelle che è stata battuta all'asta nell'ultimo giro di aste delle edicole del monumentale perché ci sono ogni tot tempo delle edicole che scadendo le concessioni vanno poi battute all'asta questa partiva da una vi dico una cifra ma questa è una curiosità che non non importa più di tanto però ve lo dico partiva da 389 mila euro di base d'asta è stata acquistata per 507 mila euro per cui per renderci un po conto del tutto ovviamente chi l'ha acquistata dovrà occuparsi anche di restauro conservativo di manutenzione di tutto quello che necessita una struttura di questo tipo che chiaramente ha un valore artistico importante ed è sotto la sovrintendenza per cui quando tu fai un progetto per rimettere e sistemare l'edicola frova devi ovviamente avere l'avvallo e il via libera della sovrintendenza curiosamente tanto per dirvene una probabilmente quella scritta con il nome frova nonostante non ci siano più i frova all'interno di questa edicola dovrà restare perché ovviamente è un qualcosa che a livello culturale a livello artistico visto che è un mosaico importante non può essere toccato quindi poi si dovrà trovare come dire una soluzione per ricordare chi qui farà riposare i propri familiari lo vedete c'è anche la lunetta molto molto bella che verrà chiaramente risistemata perché anche questa ha bisogno di interventi però insomma è una struttura molto molto particolare molto significativa anche perché è all'inizio del viale principale del monumentale quindi insieme all'edicola palanti al mausoleo palanti è quasi una mezza porta di ingresso diciamo così a quello che poi è tutto ciò che si sviluppa alle mie spalle e che andiamo rapidamente a raggiungere insomma è certo però vorrei chiedere a verga visto che è qui dal collegio degli ingegneri degli architetti in termini di manutenzione visto che ci sono state queste aste che erano in prima pagina in tutti i giornali Corriere Repubblica insomma i prezzi pensiamo alle nostre case quanto valgono forse qualcuno di noi non ha una casa che vale tanto quanto quella edicola che poi è la cappella di famiglia no il certo però quanto può costare poi a mantenerla cosa bisogna fare dipende da come è messa dallo stato di manutenzione che ha eccetera però voglio sottolineare una cosa che è proprio questo passaggio metterle all'asta nel senso che passano da uno all'altro eccetera vengono tutte manutenute in modo importante e continuo e quindi come valore per la città per la comunità è molto importante questo aspetto certo vediamo queste opere questo è un monumento bellissimo che esprime tutto insieme il dolore e la speranza poi ce lo raccolterà Jacopo naturalmente ma il tenerle in ordine è già questo uno degli elementi importanti del ruolo del cimitero certo il cimitero stesso poi noi sappiamo che nella nostra vita Jacopo chi va a trovare il suo difunto il funerale poi si occupa dal fiore ha comunque la pulizia anche lì davanti quindi io mi immagino in cimiteri grandi come questi ma anche a Milano il cimitero di Lambrate quanta strada anche c'è da fare quanta fatica per entrare all'interno di queste perché lì ci sono anche tanti scalini per arrivare da una parte all'altra ci sono due ingressi quindi chi va davvero a trovare il defunto al di là di quello che può essere un girovisita deve fare parecchia strada se poi va al cimitero di Musocco che è il più grande difatti in alcuni cimiteri compreso Musocco, Bruzzano eccetera c'è un servizio anche di autobus di trasporto pubblico esatto di trasporto pubblico ecco noi dicevamo questa statua qui no però qui no però di non c'è però comunque penso che si possa no ma è anche più piccolo oggettivamente rispetto al Musocco questo bisogna dirlo sicuramente chiaramente ha un altro tipo di faccia di profilo e insomma di una bellezza straordinaria io sono davanti a un monumento quello di cui parlava Verga che è dedicato a Isabella Airoldi questa è la tomba di famiglia poi di Airoldi Casati da famiglia Airoldi Casati è un monumento veramente come diceva molto bello molto simbolico perché quello che vedete alle spalle di Isabella Airoldi che è morta di parto molto molto giovane alle spalle c'è questo cerchio che rappresenta una sorta di paradiso per cui gli angeli che vengono a prendere l'anima di Isabella Airoldi per portarla nell'aldilà alla base del monumento ci sono dei fiori raccisi che raccontano insomma la tragedia di una vita persa spezzata troppo presto chiaramente e qui agli angoli ci sono due fiammelle qualcosa che in pochi notano queste sono candele come vedete e questa è una fiammella la fiammella che sta per spegnersi sostanzialmente quindi fa capire quale momento della vita di Isabella Airoldi viene colto e immortalato in questo monumento quindi gli ultimi istanti di vita di Isabella Isabella che ha creato chiaramente una marea di scalpore perché come avrete notato ha il seno scoperto e a quei tempi non era esattamente un qualcosa che veniva colto bene sostanzialmente in alcuni altri casi sono stati addirittura rivisti monumenti che avevano qualche cosa che andava contro il pudore secondo quello che era il modo di pensare di quel fine ottocento dell'epoca certo sì esatto e quindi sostanzialmente questa si è salvata ha resistito alla censura diciamo e meno male che l'ha fatto perché è uno dei monumenti più belli e iconici del monumentale assolutamente verga sulla censura dell'arte vuole dire una cosa no solo perché Jacopo ha fatto una bellissima descrizione di questa tomba di questo monumento e nella descrizione non c'è nulla di effimero cioè è sostanza è le immagini le riflessioni che ha collegato Jacopo ci hanno aiutato a capire che cosa va a rappresentare questo monumento nulla di che non sia collegato al momento di questo passaggio tragico dalla vita alla morte però con la speranza dentro perché poi quel cerchio magnifico è certo che infatti ma infatti lo ritroviamo anche nelle edicole successive se adesso pensiamo anche dove ci stiamo dirigendo l'idea proprio che queste opere siano un racconto non soltanto per la famiglia stessa o per il defunto ma anche per gli altri questa cosa comunque nei cimiteri c'è perché tu devi raccontare una vita anche a chi sta passando di lì soprattutto raccontare alla comunità raccontare agli altri che è un passaggio che è un passaggio verso quella che è stimata voluta la vita eterna proprio mi hanno sempre fatto anche un po' attirato la mia attenzione questi monumenti un po' piramidali che ricordano veramente anche le piramidi le piramidi che si innalzano comunque verso l'alto anche loro però da noi sono forse più rari sono più rare ma fanno parte anche la piramide e anche lei un senso di elevazione e di indirizzo verso il cielo invece questo è più più particolare tutto da scoprire Jacopo sì questa è la tomba della famiglia besenzanica che era una famiglia di lavoratori come tante però la curiosità è che lavorava nel settore edile non nell'agricoltura e nei campi però l'architetto che è lo stesso della tomba precedente cioè Enrico Butti un altro che di storia del monumentale ne ha fatta parecchia ha avuto libertà come dire dai da chi gli ha commissionato questa tomba di famiglia e ha scelto di tornare al lavoro in senso più puro che è quello collegato alla natura alla terra tant'è che ci sono queste due figure una giovane e un'anziana che si stanno appunto stanno su una cena bucolica diciamo così e il più giovane tiene le redini dei due buoi che stanno trainando l'arattro come una sorta di passaggio di consegne tra una generazione e l'altra ma al di sopra di questa di questa figura c'è madre natura intenta soffiare come dire l'alito di vita nei campi e non soltanto nei campi anche sul genere umano stesso e sui lavoratori che sono raffigurati alla base del monumento e quindi è insomma sia una scena reale che un simbolo molto importante che è quello appunto di madre natura vi faccio vedere al volo perché stiamo dobbiamo un po' cominciare a correre ho paura visto il tempo che alle spalle questo monumento è monco nel senso che c'è pietra totalmente lasciata allo stato puro non scolpita motivo perché vedete che queste sono le i piedi del di madre natura lì ci sarebbero le terga butti che era stato accusa dalla famosa censura di cui parlavamo prima per il senato di Isabella Iroldi ha provocato la stessa censura evitando di di scolpire le terga del di madre natura in questo monumento invece è stato apprezzatissimo dalla critica del tempo per cui c'era un po' un rapporto strano tra butti e i critici d'arte del suo periodo insomma infatti abbiamo visto che lui l'ha fatto quasi in vena provocatoria invece è stato apprezzato come spesso accade nelle migliori provocazioni certo è stato bravissimo voglio dire butti si è autocensurato ma nell'autocensurarsi ha espresso comunque la sua visione ha espresso la sua arte e quindi è stato geniale e dobbiamo dire che è sempre arte cimiteriale sempre fa parte dell'arte quindi anche della censura anche del cosa vuol dire infatti ce ne sono tante altre che vedremo tra poco dopo la pubblicità allora continuiamo il nostro tour al monumentale e appunto parlando anche di queste edicole che poi sono le cosiddette capelle di famiglia certo ecco ne abbiamo vista una passando mentre tu ti dirigevi al monumento toscanini che tra poco ci mostrerai una che è quella più cara di tutti battuta all'asta l'annoni nell'ultima asta si nell'ultima asta si l'edicola l'annoni vi dicevo che mezzo milione era costata l'edicola frova questa è costata quasi due milioni e mezzo la cifra iperbolica motivo non tanto ecco cosa ha di così speciale non tanto per un valore artistico da quello che ho capito io ma di spazi nel senso che all'interno l'edicola non ha molti più spazi dove tumulare i familiari per cui probabilmente anche chiamiamoli metri quadri anche se non sono metri quadri però in effetti è quello probabilmente il plus che ha portato a quella cifra anche se devo dire che il rilancio le aste si fanno in busta come le gare d'appalto sostanzialmente busta chiusa e apri il rilancio è stato veramente alto perché non era in maniera astronomica più alta la base d'asta rispetto alla l'edicola frova per cui si vede che qualcuno ha deciso che quella doveva essere lo spazio giusto anche probabilmente per una questione di numero di persone che verranno poi tumulate all'interno anche un rilancio forte e anche una donazione perché in un momento importante come quello di stabilizzare una tomba di famiglia uno fa una donazione al cimitero quindi fa una donazione più ampia a tutta la comunità e poi non per forza di famiglia nel senso che uno può scegliere chi fare e mettere all'interno molto spesso si vedono persone vicine alla famiglia ma non per forza con legami di sangue Jacopo ecco dove siamo adesso siamo davanti alla tomba di Toscanini è diventata poi una sorta di tomba di famiglia c'è anche Arturo Toscanini qui all'interno famoso sapete tutti di chi sto parlando ma in realtà nasce come monumento funebre per il figlio piccolo di Arturo Toscanini che è morto tra i 4 e i 5 anni Giorgio Toscanini erano all'estero ed è una delle tombe più particolari erano all'estero e infatti forse quello che c'è in facciata e cioè lo vedete una nave un veliero diciamo così che naviga è probabile che possa testimoniare appunto il viaggio di ritorno della Salma di Giorgio Toscanini morto all'estero per appunto tornare dove sarebbe stato poi sepolto e quindi qui al cimitero monumentale è un monolite perché non ci sono soffitti tette o tetti particolari però ci sono molte particolarità nelle varie facciate una ve la faccio notare subito queste sono le moire greche le parche sostanzialmente che sono quelle che tirano i fili del destino dell'uomo sostanzialmente tant'è vero che lo potete forse intuire forse no ci sono addirittura delle forbici che poi sono quelle che vengono utilizzate per tagliarlo quel filo diciamo così alle spalle dell'ingresso dell'edicola Toscanini ci sono Arturo e la moglie colti in un momento chiaramente di dolore puro nudi perché chiaramente un lutto come quello di un bimbo che muore ti lascia attonito e totalmente allo scoperto con una dedica al piccolo Giorgio scritta qui incisa qui su questa su questa lapide vediamo anche che ci sono dei segni qui lo potete notare qui l'inquadro è come se ci fossero dei buchi dei fori quelli sono i segni che hanno lasciato i bombardamenti qui accanto su Garibaldi durante la guerra perché poi i detriti che venivano scagliati altrove dall'atterraggio dei vari ordigni colpivano anche il cimitero monumentale e le tombe e chi ha sostanzialmente i toscanini hanno deciso di non toccare quel tipo di segno lasciato dalla guerra per come dire dare un monito alla città di quello che può la guerra fare di danni e di segni lasciati di cicatrici lasciate sul viso e il volto di Milano e della città in generale dall'altra parte rispetto alle moire greche ci sono le ore altre figure simboliche che sostanzialmente hanno come dire il pare almeno questo è una delle letture il compito di sottolineare ciò che Giorgio non è riuscito a vivere cioè a conquistare come ad esempio una carriera militare perché qui come vedete c'è un fante a cavallo c'è un soldato a cavallo lì c'è una sorta di tromba per cui una carriera magari nella musica esattamente come quella sviluppata dal padre hanno voluto immaginare una carriera del figlio di Toscanini che non è mai potuto poi crescere quindi fare tutte queste esperienze sottolineare che ha perso tutto questo insomma potrebbe essere questa una delle letture artistiche di questo monumento che è uno dei più significativi certamente dell'intero cimitero monumentale certo e mentre tu ti dirigi verso l'ossario leggiamo anche un messaggio che arriva da casa scrivono la struttura del cimitero è un'opera d'arte in stile neogotico rinascimentale all'interno si trovano capolavori di arte contemporanea prodotti dai grandi maestri tra cui Lucio Fontana Castiglioni Pomodoro Melotti praticamente un museo a cielo aperto bravi a portare l'arte in tv scrive Enzo da Milano e poi ovviamente vogliono sapere di te sì l'avete riconosciuto l'ex assessore alla cultura oggi è nel collegio ingegneri architetti di Milano certo ma è importante questa nota che è arrivata perché questi è veramente un museo Castiglioni Bay eccetera cioè sono gli artisti milanesi e lombardi che hanno lavorato tanto nell'arte funeraria nell'arte cimiteriale eccetera perché anche loro lo hanno sentito come un dovere però se pensiamo anche all'arte nella storia dagli egizi in poi è l'arte funeraria per gran parte di quello che c'è che ci è stato donato è assolutamente vero poi il culto della morte cioè le piramidi ne parlavamo prima come pure particolari tutti abbiamo in mente le grandi maschere egiziane eccetera curate alla perfezione doni al morto al defunto per aiutarlo nella seconda vita quindi e poi noi ricordiamo che tra un paio di giorni ovviamente sia il monumentale con le celebrazioni consuete del 2 di novembre sia tutti i cimiteri comunque si riempiranno anche di fiori di visite saranno aperti forse periodo dell'anno ovviamente con più visite con maggiore affluenza e con maggiore affluenza Jacopo torniamo da te in diretta dal cimitero monumentale di Milano dove appunto proseguiamo in questa visita che per noi è inedita ci abbiamo organizzato ovviamente per voi ma che anche voi potete fare in qualsiasi periodo magari meno anzi ci sono delle visite organizzate nelle quali accompagnatori spiegano bene il significato perché altrimenti uno si perderebbe non possiamo rapire casoni e portarcelo sempre dietro cosa che avrei in mente di fare però approfittiamo della tua presenza ora cosa ci mostri allora questo è l'ossario quello che vedete alle mie spalle è l'ossario che ricorda come colori certamente il famedio e certamente quello che è il monumentale bicolore diciamo così ma qui sono mattoni il rosso che vedete alle mie spalle per quanto riguarda invece il famedio e la facciata del monumentale è Pietra Simone Rossa che è un materiale molto più come dire importante e assolutamente non povero anzi mentre questo è stato fatto in questo modo anche in virtù di quel progetto che Maciacchini fece e che vinse il bando di gara nel 1863 anche in virtù del fatto che fosse sostenibile si parlava di sostenibilità economica anche all'epoca sostanzialmente perché c'era bisogno di fare in modo che ci fosse il cimitero monumentale quindi il più importante la città il più simbolico ma anche sapendo che bisognava trovare e rintracciare risorse pian piano fare qualche cosa molto a step tant'è vero che l'ossario il cimitero monumentale apre nel 1866 con sostanzialmente solo la galleria di Ponente o quasi poco poco altro diciamo così si sviluppa successivamente l'ossario è del 1873 e all'inizio era la chiesa del cimitero monumentale tant'è vero che all'interno adesso qui non lo vediamo detto questo lo vedete c'è un cantiere aperto e un cantiere attivo perché c'è una sistemazione soprattutto della pavimentazione dell'ossario stanno posando una nuova guaina hanno sollevato tutti tutti i pavimenti diciamo così e poi verranno riposati chiaramente tutto restauro conservativo perché anche questo è sotto legida della sovrintendenza all'interno è rimasto l'altare di quella chiesa ma è stato scoperchiato l'altare ed è rimasto a simbolo di questo cambio di funzione da chiesa appunto cattolica a ossario qui vicino c'è anche la tomba di don giussani se vogliamo dire c'è anche questa domenico vuol farvi vedere la tomba di don giussani c'è anche la tomba di don giussani guarda eh sì anche perché rispetto alle altre è molto moderna diciamo così sul piazzale dell'ossario certo sì certo è molto moderna molto pulita molto però significativa con quelle tutte quella come dire sequenza di linee che ricorda l'intensità della vita di don giussani e quasi va a ricordare tutti i suoi giovani quindi è un elemento molto molto importante una nota voglio dire rispetto all'ossario quella sequenza tra il bianco e il colore mattone quelle righe che chi arriva a Milano ha detto proprio in parole più che povere quelle righe che sono notizie lì è il cimitero monumentale vedi un film capisci che è quello e peraltro il richiamo è anche a Sant'Ambrogio che nella basilica abbiamo la stessa sequenza quindi c'è tutto un richiamo della città dentro dentro il cimitero c'è il richiamo di tutta la città sembra veramente una cartolina poi con questo questo tempo che oggi ci ha regalato torniamo da te e da voi ovviamente dopo la pubblicità tra poco rieccoci in diretta dal cimitero monumentale di Milano vi stiamo mostrando una visita in diretta che Giacomo Casoni ci sta portando nei luoghi ovviamente non solo più noti ma anche che meritano una riflessione particolare in questi giorni che si avvicinano e vanno anche in direzione dei santi dei morti che noi celebreremo e ovviamente quando si parla di cimitero monumentale non si può scindere il famedio è lì che ci stiamo dirigendo Verga certo e tra l'altro famedio vuol dire tempio della fama per cui è il punto centrale di tutta la nostra vicenda famedio che originariamente avrebbe dovuto essere una chiesa ma che poi è diventato invece il luogo delle sepolture e del ricordo delle persone illustri della città di Milano come prima ricordato Jacopo tutto è stato inaugurato nell'866 ma ci sono stati 25 anni di discussioni prima che si arrivasse a realizzare il cimitero monumentale lì dove è oggi e si realizzasse con le caratteristiche che oggi apprezziamo intanto vediamo lui che ci sta portando all'interno proprio io ti ringrazio anche perché io ricordo sempre che c'è gente che fa fatica anche a camminare l'accessibilità è per tutti è garantita però fare quegli scalini anche se c'è l'accessibilità poi magari ci sono delle giornate in cui oggettivamente ti passa anche la voglia di farlo quindi grazie perché secondo me è molto bello poter entrare insieme a te e vedere tutto questo tra l'altro al famedio quando si parla di famedio si parla anche dei famosissimi criteri di ammissione quindi c'è questo regolamento di quegli anni del 1880 al 1900 di cui voi parlavate quindi quali cittadini sono effettivamente degni di passare alla storia gli illustri non dimentichiamo che poi all'inizio di dicembre a Sant'Ambrogio il comune assegnerà i cosiddetti ambrogini d'oro però assegnerà anche le segnalazioni e le presenze dentro il famedio quindi è molto importante la scelta delle persone illustri ecco qui abbiamo davanti Alessandro Manzoni l'illustrissimo che è il milanese più illustre non c'è dubbio su questo e anzi è stato rispetto a Cattaneo che pure è stato uno dei due primissimi sepolti nel famedio qui è stato innalzato perché è stato creato sotto la tomba un piedestallo molto importante proprio per renderlo il più importante dei milanesi a te la parola Jacopo quello è Carlo Cattaneo peraltro Manzoni si sostanzialmente mentre Manzoni era vi porto dove era Manzoni era appoggiato a terra e non sul basamento firmato da Castiglione che è stato fatto successivamente poi è stato traslato proprio per innalzarlo all'epoca all'inizio lì dove adesso c'è Manzoni c'era una sorta di buco un affaccio come se fosse l'affaccio delle cripte delle tombe di famiglia e anche qui c'era un vuoto in mezzo al famedio è stato riempito in maniera molto illustre e definita ottimamente dalla tomba di Manzoni che era qui invece prima lateralmente appoggiata a terra come quella di Cattaneo che avete visto ma da questo lato detto questo il famedio è quello che tutti un po' conosciamo avete visto quando siamo entrati le volte con il cielo stellato che vi dicevo all'inizio ricorrono spesso all'interno del cimitero monumentale ci sono qui sepolte poche personalità illustre illustri in realtà perché c'è Luca Beltrami che è l'architetto dell'edicola Frova che tanto ha dato al cimitero monumentale ci sono poi lateralmente altri illustri milanesi l'ultima ad essere stata tumulata qui è Carla Fracci vogliamo vedere Carla Fracci si dal 2021 che è lì Carla Fracci 21 si si poi ci sono Salvatore Quasimodo Carlo Forlanini esatto dall'altro lato Bruno Munari famoso design Bruno Munari certo Forlanini è il fratello di Enrico e questa invece è la tomba di Carla Fracci al famiglio di Milano dove merita di stare questi nomi è importantissimo perché vuol dire che il monumentale non è un cimitero fermo è un cimitero in movimento perché è di tre anni fa la tumulazione di Carla Fracci quindi non è come fosse un monumento che ha compiuto la sua opera no è un'opera in divenire quella del monumentale di Milano certo poi pochi ma relativamente io ricordo di essere stata in viaggio a Praga c'era solo la tomba di Galileo e lì c'erano i turisti qua abbiamo veramente tanto anche da offrire in termini di visite e di storia poi c'è la cripta del famedio non so se ci andremo adesso no non riusciamo ad andarci adesso in questo momento rimaniamo qui perché ci sono un bel po' di cose da dire qui rispetto ad esempio ai nomi scritti sulle volte del famedio che sono scritti in maniera cronologica cioè la parte alta le lunette sopra dove c'è il rosone e tutto sono nomi di persone morte prima del 1750 o giù di lì più o meno tanto per capire poi scendendo si arriva alla attualità diciamo così quindi a Carla Fracci come abbiamo detto ad altri che sono appunto tumulati qui come hai detto tu Quasimodo c'è Bruno Munari c'è Leo Valiani c'è il fratello di Forlanini anche lui molto famoso ma in altro can fosse appunto quello di Enrico ci sono le lapidi su cui vengono iscritte le personalità di cui parlava Verga prima cioè chi viene ricordato al famedio annualmente si scelgono determinate figure l'anno scorso è stato il turno di Silvio Berlusconi lo sappiamo c'è stata anche un po' di plenica tant'è e prendo a spunto Berlusconi per dirvi che sia quelli che sono scritti sulle pareti del famedio e quindi anche sulle volte sia quelli che sono iscritti su queste grandi lapidi sono tutte persone che non necessariamente riposano qui anzi la maggior parte riposa in altri cimiteri magari in altre città magari addirittura in altri paesi quindi all'estero ma Milano ha voluto significare come ha detto Verga come ha detto anche la direttrice all'inizio di questa di questa trasmissione che ha una memoria e quella memoria va coltivata quella memoria va trattenuta elaborata e soprattutto deve diventare ispirazione per chi deve ancora scrivere pezzi di storia di questa città lo vedete la bandiera di Milano alle spalle ci sono i nuovi iscritti del famedio in realtà ci sono anche quelli dell'anno precedente ma ci sono le nuove iscrizioni ed è tutto pronto perché il 2 di novembre ci sarà appunto questa cerimonia in cui verrà scoperta mi piace sottolineare che le persone sono del mondo delle istituzioni come del mondo dell'arte ma dello sport dell'imprenditoria del sindacato quindi veramente la più ampia rappresentazione della città ecco poi io prima ti citavo la cripta perché leggevo adesso sul sito alcuni dei nomi che tu hai detto che poi possono anche ritrovare i nostri telespettatori Guido Crepaz Dario Fo Franca Rame Giorgio Gaber fai conto che le tombe di questi sono qui cioè sono proprio nella cripta del famedio riposano qui questi illustri milanesi e non solo ma sono anche iscritti in maniera diversa a quello che capita sulle lapidi e sul marmo alle pareti sono iscritte su queste vele diciamo così in bronzo che riportano appunto i nomi di chi riposa nella città del famedio e quindi come dicevi tu ci sono ci sono varie personalità ci sono anche sindaci di Milano certo anche Tognoli ecco in realtà iniziamo a sentirti un po' male Jacopo a essere sepolto al monumentale cioè ogni sindaco può essere sepolto al monumentale se lo sceglie se la famiglia preferisce altro fa altro però ha diritto a un posto nella cripta del famedio ecco ricordiamo riferendoci ai sindaci che a Palazzo Marino al primo piano nel loggiato di Palazzo Marino ci sono i busti di tutti i sindaci di Milano quindi dopo quanto viene fatto abbastanza cioè chi è l'ultimo secondo te adesso Tognoli non ancora però Agnasi quindi siamo un po' indietro Agnasi sì ma ci vuole un po' di tempo insomma quindi eccola qua comunque la tomba di Alessandro Mangione insomma questa è veramente da visitare ecco quel blu che prima Jacopo ha ricordato è un colore incredibile che è un colore incredibile ma è un colore emblematico della ricchezza perché anche nelle chiese nei templi anche non cristiani il blu si poteva ricavare solo dai lapislazzoli e quindi solo da pietre preziose si poteva ricavare il blu è simbolo di ricchezza quindi di devozione di incontrare di solito nelle parti più alte degli edifici e di fatti lo vediamo nella volta eccetera nel punto della massima elevazione porre il massimo della ricchezza e quindi il massimo del riconoscimento per quello che rappresenta il monumento in sé torniamo da te Jacopo anche per i saluti finali si io ho un inquadramazzo di fiori lì che c'è proprio sul basamento della tomba di Manzoni perché siamo stati testimoni di un ragazzo giovane presumibilmente un turista probabilmente straniero che ha voluto addirittura rendere omaggio a Manzoni portando dei fiori nel 2024 è una cosa che mi ha colpito particolarmente ed è come dire una dimostrazione forse di quello che è il monumentale cioè un posto di storia di ricordo di memoria e di orgoglio anche di una città che ha deciso di avere questo tipo di approccio rispetto ai suoi figli illustri è un bellissimo segno questo proprio che è quasi il senso di questa nostra anche ricognizione di questa trasmissione di questo incontro bellissimo veramente davvero grazie per avercelo raccontato Jacopo perché ovviamente insomma ci stavamo infatti domandando insomma Alessandro Manzoni chi le avesse posti in particolare coi fiori eh sì 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 un ragazzo giovane davvero mi ha colpito particolarmente invece noi siamo diventati senza merito delle guide del cimitero monumentale perché non so perché la gente si avvicina chiedendo come fa a trovare la tomba X la tomba Y vedi l'ombrellino lo devi portare anche quando non piove però lo fanno molto meglio lo fanno molto meglio loro cioè coloro che ci hanno accompagnato prima di questa di questa diretta a fare il sopralluogo di quello che avete visto adesso oggi è più facile perché con le app e tutti questi strumenti dell'informatica si può sapere esattamente dove sono proprio anche col nostro telefonino assolutamente ma noi vogliamo Jacopo Casoni ovviamente sempre quindi grazie a te a Domenico Zingaro grazie a Domenico Zingaro anche da parte mia e a voi saluto e ringrazio anche Gianni Berga che è con noi a voi grazie dell'occasione bellissimo ci ritroviamo prossimamente e ovviamente voi non cambiate canale perché dopo la pubblicità pronto Telenova con la dottoressa medico di famiglia medico di base rispondiamo alle vostre domande tra poco grazie a tutti